Il libro era in francese, sebbene fosse di un libro di un americano e di una persona che era nata e cresciuta a New York, pagina dopo pagina ho letto prima di tutto qualcosa che in una forma e in dei contenuti che non avevo mai letto. Un libro molto crudo, molto fisico e molto vicino, che diventa molto vicino al lettore, sebbene la situazione di solito di un lettore sia diversa da una persona diagnosticata schizofrenica, di solito. E per via del fatto che il signor Wilson, lui, si sentiva estraneo nella propria città nativa, e che avesse rifiutato l'inglese, io ho trovato delle corrispondenze con me, che ero appunto italiano, mi privavo in qualche modo della mia lingua per cercare di adattarmi a questa città in tutte le sue contraddizioni, bellezze e ingiustizie, se si vuole. E ho trovato in quest'uomo, nel suo racconto, un esempio di un uomo moderno che a me mi ha affascinato, mi sono immedismato tantissimo in lui e quando ho scoperto che lui era vivo mi è sembrato così normale andarlo a incontrare. Abbiamo visto nel film, ma poi anche facendo delle ricerche, ho scoperto che Wilson, nonostante fosse pubblicato dalla Gallimard in Francia, nonostante che Sartre l'avesse paragonato a Andonin Artaud, a personaggi di un certo calibro, è rimasto completamente sconosciuto. Questo è dovuto a che cosa secondo te? Gallimard ha pubblicato questo libro che al tempo, nel 1970, ha avuto un bel po' di riscontri a Parigi, di fatto. Wilson, ovviamente, ha bandito la traduzione in inglese, quindi negli Stati Uniti era completamente sconosciuto e rimane completamente sconosciuto negli Stati Uniti rispetto all'Europa. In Italia fu pubblicato, ma soltanto il suo secondo libro. La natura stessa della scrittura del primo libro, l'Eschizio e le Londres, è tale per cui le traduzioni sono estremamente difficili da affrontare, perché il modo stesso in cui questo americano autodidatta di varie lingue, tra cui il francese, scrive in francese, è il modo in cui si prende gioco della lingua francese, il modo in cui vuole scrivere in un francese riformato. È il suo modo, di fatto, in cui lui si prende gioco, molto ironicamente, dalla società e di se stesso, prima di tutto. Nel film ci sono delle testimonianze illustri, e non mi riferisco solo a quella di Paul Oster, che lo considera un assoluto genio, ma ci sono anche professori universitari che spiegano anche l'idea della scrittura di Wollstone. Quello che si evince dalle testimonianze di Silver Lothranger e da Richard Seabroach sono varie cose. Allora, prima di tutto il fatto che per Lothranger Wollstone si pone sempre e sempre in ogni situazione come l'altra persona, non si pone mai come se stesso, si pone sempre come qualcun altro, e narra i suoi libri La terza persona. Questo ha affascinato sempre tutti molto. E tra se stesso e il mondo, lui in qualche modo, per riassumere come diceva Kafka, a cui Lothranger paragona Wollstone, lui dice che tra gli altri e il mondo e se stesso, Wollstone prende sempre la parte del mondo, prende sempre la parte del mondo che lui sta combattendo. Quindi c'è questa impresa paradossale di essere contro se stesso in tutta questa operazione. Quindi i libri possono essere letti a vari livelli, i suoi due libri e sicuramente c'è molto da dire su Wollstone.